Ebbene, sono qui perché avete scoperto. Cominciamo una collaborazione con Bauboi. Questa trasmissione è dedicata ai ragazzi, ma non solo. Naturalmente su Italia 1 alle 17.10 tutti i giorni. E ci saranno delle grandi novità, soprattutto per gli amici dei cani. Naturalmente insieme a me, insieme a Marco Berri, alla Chiabotto e a tutto il team dei Bauboi. Vi aspetto.